Le opere di misericordia sono, con parole semplici, il prolungamento interpretativo dell'atteggiamento di carità nei confronti degli altri, che si specifica sulla base non tanto dei nostri desideri, delle nostre velleità, quanto piuttosto sulla base delle domande reali che gli altri ci pongono, cioè sulla base delle loro necessità e dei loro bisogni. E nella formula, nella forma settenaria della tradizione, queste opere di misericordia, soprattutto quelle materiali, corporali, trovano la loro radice nella Bibbia, nel Vangelo, ma si tratta sempre di interpretazioni che specificano la caratteristica fondamentale del discepolo di Gesù, che è l'amore. Leggendo il Nuovo Testamento mi pare di poter capire che la logica che emerge sia diversa dalla nostra logica umana. Per noi la cosa funziona in questi termini, se ti comporti bene ti perdono, se ti converti dalle tue malefatte io ti assolvo. Nella prospettiva di Dio invece è l'opposto, io ti perdono, ti offro la conversione, ti faccio dono della conversione e soltanto per questo tu hai la possibilità di convertirti. Pertanto anche la conversione diventa un dono preveniente di Dio che esige naturalmente da parte dell'uomo l'accoglienza responsabile, libera, consapevole e per questo stesso esiste una risposta, esiste la necessità di una risposta fattiva che manifesti l'accettazione del dono. Pertanto contemporaneamente la conversione è dono di Dio ma anche opera dell'uomo. Forse nella storia del nostro cristianesimo noi abbiamo sottolineato troppo la dimensione moralistica della conversione, dimenticando invece il dono che si trova alla radice. Per quello che capisco però e so della vita di Francesco mi colpisce questo suo desiderio di intimità con Dio, la ricerca della grotta, della cella nella quale si trova tu per tu con il suo Signore. E da qui emerge anche, se capisco bene, la disponibilità nei confronti degli altri e la caritas verso gli altri e pertanto è un tu per tu il suo, è un tu per tu con Dio che non è mai senza i fratelli e questo è una sorta di insegnamento per noi, non esiste una relazione personale con Dio che non si traduca anche in un atteggiamento di relazione interpersonale con gli altri e da qui scaturisce e si articola allora anche il discorso istituzionale dell'alterità della relazione che riguarda la vita pubblica, la vita politica, la vita economica particolarmente importante oggi. Per cui per dirla in qualche modo non si può essere amici di Dio senza essere amici di quelli che sono Suoi amici. E dal momento che tutti sono amici di Gesù allora vuol dire che se noi facciamo selezione in base al nostro egoismo e al nostro desiderio soggettivo nei confronti degli altri ci capita sicuramente di escludere anche Gesù dalla nostra amicizia. La persona è relazione, perché ci sia la relazione c'è bisogno di una identità chiara che si ponga appunto in dialogo con gli altri. Il punto di svolta di questa antropologia è non la concezione dell'individuo separato dagli altri, ma è piuttosto questo essere in relazione che ci costituisce persona. Vorrei dirlo traducendo una immagine della filosofia nota a tutti, cogito ergo sum, diceva il filosofo, penso dunque esisto. C'era il Papa Benedetto che invece trasformò questo in un passivo cogitor ergo sum, dice sono pensato da Dio, per questo io esisto. I miei amici africani hanno ancora cambiato questa storia e hanno detto cognatus sum ergo sumus, siccome sono in relazione noi siamo. Ecco, questo esige la consapevolezza che non c'è né individualismo e nemmeno massificazione dall'altro. Io direi il servizio alla verità, laddove la verità non è soltanto una questione cronachistica, ma entra nel vivo dei bisogni della persona. E quindi ancora una volta la verità è conosciuta profondamente non dalla persona che più conosce dal punto di vista intellettualmente astratto, ma è maggiormente conosciuta da chi ama. E pertanto se la comunicazione diventa frutto di amore nei confronti degli altri, si riduce il pericolo della spettacolarizzazione di ciò che si dice, si riduce anche il pericolo della funzionalità, della strumentalità delle notizie e forse in qualche modo si apre la strada ad una conoscenza che è per la crescita della persona in quanto capace di accogliere amore e di donare amore.